In tanti secoli sulla Terra sono morte miliardi di persone. Ecco, al termine della loro vita, quando i binari finiscono, sono andati oltre questa realtà. Però nessuno di loro è tornato. Come mai? Ecco, questo per dire che oltre alle belle illusioni che ci vengono raccontate, c'è una realtà, che nessuno torna all'altra realtà. E questo potrebbe significare una cosa, che dobbiamo imparare a usare la testa, il cuore e i valori per vivere bene ora, qua. Questa è l'unica vera realtà.